Il loro generale, eccolo qua, quinto trigemino, fa l'ultima carica di un re, di un re assolutamente romano, di un imperatore che non ha più nulla e infatti anche egli davanti alla nostra grandissima armata si perde e se ne va. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel canale di Streams 13, siamo su Total War Rome 2 Imperial Edition, pronti a proseguire con la nostra avventura con gli Spartani Pro, Pro come Ricky Magnus, ciao Ricky. Ciao ragazzi. Il problema grosso ragazzi che mi avete fatto notare è che Rimini e Patavium ancora una volta sono state riprese dalle fazioni degli RDA e stavolta dei Veneti ragazzi che non avevo mai visto e i Veneti e il problema è che Roma adesso ragazzi potrebbe sparire dalla faccia della terra e noi ne saremo gli artefici, sono onorato di questo ragazzi, combatteremo assieme per questo. Altra cosa che abbiamo visto è che infatti Roma non ha più un suolo natio, non ha più un territorio, tant'è che tutte le sue armate in giro per il mondo si stanno logorando da sole. Ragazzi diamo il colpo di coda a Roma, salutiamo un grande nemico con cui abbiamo combattuto spesso, è il momento di attaccare, andiamo avanti ragazzi, sapete già quello che dovete fare. Eccoci qui, Roma scappa, lontano e ragazzi adesso potrebbe succedere una buona cosa Ricky, non attacchiamo di nuovo perché assolutamente sì, entriamo in città, ragazzi una manovra strana per Strenus, spero vi piaccia perché qui ci sta la strategia, non attacchiamo i Romani, lasciamoli lì, aspettiamo che vada verso Rimini ragazzi, il grande loro generale, gli diamo una piccola mano diciamo Senti amico mio della legione terza Minervia, perché vieni a Roma a rompere le balle? Vai verso Rimini che è sguarnita, riprenditela e poi ti verremo a dare un calcio là. Tradimento, Strenus attaccherà il Romano dopo che ha attaccato gli RDA. Ragazzi ok, perfetto, quindi abbiamo fatto quello che potevamo, non riattacchiamo le popolazioni dei Romani, aspettiamo che il loro esercito possa muoversi. Detto questo, vediamo se possiamo fare altre cose, vediamo che c'è un piccolo risollevamento dal punto di vista di ordine pubblico solamente nelle zone centrali, grazie all'intervento di Poliper Conte che si trova appunto in quelle zone. Vediamo solo in Magna Grecia come vanno le cose, abbiamo un meno 4 sia a Sparta che ad Atene. Atene che ragazzi non ha più il Disma, anzi in realtà non è Disma, ma il successore ragazzi di Abercio Marcio che è morto ragazzi qualche gameplay fa, pace all'anima sua, ma appunto il caro vecchio Disma non è più presente perché appunto è ferito. Esatto, molto bene, quindi Atene ragazzi in realtà è senza un comandante, cosa che potremmo assolutamente, vediamo un po' ragazzi, altre famiglie e famiglie reali che però ci causerà una diminuzione di Geronti. Io ragazzi a questo punto a livello politico siamo messi un po' male. Dunque ragazzi quindi cosa faremo? Faremo che promuoveremo assolutamente qualche altro nostro grande generale se possibile. Allora Disma ragazzi ormai ha assicurato promozioni su promozioni, il problema è che ancora non riusciamo a portare altri Geronti dalla nostra ragazzi, attenzione. Allora assicuriamo un'altra promozione. Prima a parlo di Disma, io lo farei qualche di un altro per avere un livello più stabile, generale, non possiamo farlo a nessun altro Ricky però, attenzione. Disma ancora 3 turni sarà ferito, gli hanno fatto un attacco ragazzi, ma assicureremo nei confronti suoi altri soldi. Quindi dobbiamo farlo diventare il migliore, diventerà un EFOR. Ragazzi più 15% la prefissizione fiscale, più 5% la gravità per turno e 10% meno 10% al mantenimento. Ragazzi assicurazione, anzi assicurare appunto un intrigo politico l'abbiamo fatto adesso che sarebbe appunto una promozione. Allora ragazzi direi proprio che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare Ricky, non abbiamo altre cose da sbrigare se non la costruzione forse di qualcosina. Vediamo un po', a Napoli l'abbiamo assolutamente messo a far tutto. Vellatri, Velletri già fatto e anche da questo punto di vista abbiamo finito. Ragazzi vediamo quindi che manovre farà Roma a questo punto, se andrà verso Rimini e ci faciliterà le cose oppure meno. Finiamo il turno e appunto passiamolo assieme ragazzi. Anzi vediamo solo quello che c'è da vedere. Ragazzi vi dico solamente, prima di interrompere e senza annoiarvi, che abbiamo e stiamo facendo 3545 Dracme d'Or. Allora ragazzi Roma non ci sta, c'è proprio una fazione che non molla assolutamente, se deve decidere tra Rimini e Roma logicamente sceglie Roma. Il problema è che dentro Roma ci siamo tutti noi, tutti assolutamente affiancati l'uno all'altro. Ragazzi scendiamo in campo ed eliminiamo dalla faccia della terra la fazione Roma. Ragazzi siamo pronti a opporre la nostra resistenza. Roma contro i Romani, Roma spartana, Roma assolutamente libera. Ragazzi qui ci siete tutti voi, gli uomini di Poli per Conte, i nostri uomini spartani migliori. I picchieri che praticamente hanno fullato, hanno riempito le strade, pronti ad affrontare il nemico. Questi saltano ragazzi, sapete bene come abbattere i nemici romani, li avete conosciuti più volte in battaglia. Ed ecco qui la squadrilla di Strenus, tutti i migliori, gli spartani irreali. Poli per Conte, uno di noi, quello sono io. Questo è Ricky Magnus e qua attorno ci siete tutti voi ragazzi, i più pro, i migliori di tutti. Allora cosa abbiamo invece ragazzi? Vediamo un pochino di passare all'argomentazione della difesa. Qui ci sono tutte le truppe da, appunto, attacco all'arma bianca veloci e rapidi, a parte questi giovani spartani che hanno sbagliato il lato. Assolutamente pro, vediamo ragazzi, mettiamoli bene, perfetto. Di scontro, eccoci qua. Qui ragazzi 15 sono tutti gli uomini con scudo in modalità muro di opliti. Qua abbiamo i tiratori, siamo pronti a cominciare questa grande battaglia. 5 Ricky Magnus e ragazzi fate in modo, non ve lo devo dire, che questo giorno sia nostro. Questo giorno sarà la difesa di Roma, iniziamo la battaglia. Benissimo ragazzi, allora tutti quanti mettano giù le picche, per favore. Molto bene ragazzi, attenzione, guardate qui, io non passerei mai. Se dovessero sfondare le porte siamo prontissimi a raccoglierli. Guardate che epico che è trassuta da questo game. Mentre il generale, cioè io, faccio il discorso, potete sentirlo a malapena dal gioco. Possiamo notare che abbiamo ragazzi la possibilità, vediamo subito, di gettare forse anche il nemico. Vediamo un po'. Non mi sembra, Ricky, che abbiamo la possibilità di gettare olio bollente sul nemico. Guardina con olio, assolutamente sì ragazzi, quando il nemico giungerà alle porte e sarà anche riversato su di esso olio bollente. Non hanno la rieta, Ricky, ma fidati che ci proveranno lo stesso, perché ti ricordo che in Rome 2 Total War anche la fanteria può attaccare direttamente la porta. Se dovessero provarci sarà la loro fine. Bene ragazzi, godiamoci questo spettacolo. Tra pochissimo i nostri grandi tiratori della guarnigione, assolutamente che sono, vedete ragazzi, tutti quelli gialli, sono quelli della guarnigione cittadina. Circa mezzo esercito che abbiamo, scoccheranno il tiro e assolutamente faranno man bassa del nemico. Intanto ragazzi possiamo vedere che i Romani, ormai un popolo distrutto, sta avanzando spingendo le pesanti scalapioli, che è praticamente ragazzi una forma di macchina da sedio davvero facile, davvero leggera, facilissima da costruire e non permette alcun tipo di difesa. Quindi mentre questi spingono a rate i loro grandi macchinari, noi siamo là sopra, pronti ad aspettarli ragazzi, pronti a dimostrare al mondo intero che questi siamo noi. Mamma mia guardatevi ragazzi, attenzione, a parte quelli dietro ragazzi che stanno guardando il niente, ma si gireranno appena i nemici si avvicineranno. Guardate come incoccate, anzi i fromboglieri stanno già scoccando qualche tiro dalle feritoie. Guardate qua ragazzi, attenzione, prende la mira, braccio da 56, bodybuilder assolutamente pro nell'anima, esco per uscire ragazzi. Vi ricordo anche che le nostre torri stanno attaccando, possiamo notarlo, vedete? Le loro scale tramite frecce incendiarie. Potrebbero anche incendiarsi ragazzi, in quel caso le renderebbero nulle. Vediamo un po', allora hanno mandato avanti ragazzi le reclute mercenari, quindi hanno speso anche soldi, è proprio davvero l'attacco assolutamente pro nell'anima, vediamo un po'. L'attacco disperato di Roma che ha speso tutto. Possiamo notare che appunto stanno attaccando ragazzi con queste leve mercenari e le mandano avanti. Mentre vediamo che già le prime vittime vengono colpite, questo uomo si sta disperando mentre nel suo ventre c'è conficcato una freccia spartana. Bene bene così ragazzi, non fermiamoci, allora attenzione. Vedo... Sono le baliste che tirano. Sono le baliste che tirano, fermi tutti! Le baliste si fermino, si fermino, farebbero un disastro. Assoluto, mamma mia, hanno cercato di fare un tiro e ce l'hanno anche fatta. Attenzione ragazzi, avevo le baliste che dall'altra parte del mondo conosciuto, cioè da qui, dicono noi romani vi facciamo provare di nuovo l'ebrezza di essere arrostiti dalle nostre grandi baliste. E godiamoci ragazzi questo spettacolo, c'è poco da fare se non attendere il nemico, se mai arriverà. Anche perché possiamo notare ragazzi che davvero si trovano sotto un fuoco incrociato, degno di un re. Qui ragazzi assistiamo davvero alla fine di una grande impero, di gente che sapeva sempre quello che faceva. Dominava, vi ricorderete dei gameplayi precedenti che trovate in descrizione video. Dominava tutto il Mediterraneo, erano potentissimi i romani. Ma poi hanno deciso un brutto giorno di incontrare gli spartani. Ed è bello vedere questa battaglia, ed è bello vedere che hanno deciso di finire il loro mondo, il loro giorno sulla terra, su questa bellissima terra, proprio contro di noi ragazzi. Potevano decidere di andare contro Rimini, ma niente da fare. Vengono addirittura colpiti, mentre con i loro scudi, assolutamente pro nell'anima, vanno in altro. Mentre i nostri corni suonano, ragazzi diamogli il benvenuto, diamo i benvenuti in una Roma spartana. Diciamo grazie assolutamente ai nostri uomini, al nostro pro dei leoni da pro, al nostro Strenus. Combattete ragazzi, combattete come ben sapete fare. Attaccate il nemico una volta che sarà atterrato su di voi. Bene ragazzi, incomincia lo scontro anche sulle truppe. Ah no ragazzi, attenzione però, non facciamoli passare. Bene bene, si girano, attaccano spartani, fate in modo di distruggere questi maledetti. Uno scontro davvero terribile su queste mura romane. Eccoci qua ragazzi. Incomincia intanto a prendere qualcosina, anche le truppe romane incominciano diciamo a conquistare le porte, ma è impossibile. Mandiamo ragazzi delle truppe nostre da questa parte. Vediamo un po' le truppe più esterne. In difesa della nostra porta, non devono assolutamente passare ragazzi. Ok, mentre invece i picchieri staranno ad aspettare. Ma non dobbiamo farli passare ragazzi, quindi alzate il deretano a titano. La parte è questa. E le truppe diciamo in alto ragazzi le mandiamo subito ad attaccare. Vediamo un po' come procediamo anche da sotto. Allora, abbiamo altri uomini qui che si stanno a grattare delle leve. E si trovano un pochino impaurite. Non sanno il da farsi. Mentre la nostra fanteria finalmente sta intervenendo. Molto molto bene, li prenderemo da due parti contemporaneamente. E per loro sarà pressoché la fine. Bene ragazzi, godiamoci un po' questo spettacolo, questo corpo a corpo serratissimo. Calci in faccia vedo volare. Essendo già ragazzi i richiami di ritirata. Mi raccomando dobbiamo stare attenti perché non dobbiamo fare scendere i nostri uomini. Non c'è bisogno di seguire il nemico. Anzi, manterremo la posizione fino all'ultimo. Anzi, credo che però di scappare se ne vedranno ben pochi. Bene ragazzi, questi sono gli uomini di Poli per Conte. Guardate bene come state combattendo. Assolutamente pro nell'anima. 25 uomini rimangono di Rorari. Accerchiati da tutte le parti. Non vorrei assolutamente essere in loro. Nella loro posizione. Mentre da questa parte ragazzi possiamo vedere altri Rorari che arrivano a rate. Ma sono sempre sotto il fuoco nemico. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Questi uomini li schiererò nuovamente da questa parte ragazzi. Eccoci qua. In modo tale che possano attendere il nemico nel migliore dei modi. E non facciamoci accerchiare mai. Mentre i Rorari ragazzi si sono assolutamente ritirati. Possiamo quindi dare l'ordine di attacco a tutti quanti. Anche questi che stanno arrivando. Senza dubitare. Mai. Facciamoli fermare qui un attimo ragazzi. Attenzione. Molto bene. Lo scontro continua sulle mura. Imperverso assolutamente. E da quest'altra parte invece. Vero che stanno facendo un'altra manovra. Quanto strana. Con questa scala. Cerchano di portarla dalla parte opposta. A questo punto questi uomini sono totalmente inutili. E quindi li potremo trasferire dalla parte opposta appunto. Da questa parte qua ragazzi. Correte sulle mura. Fate vedere perché siete spartani ragazzi. Non mollate mai. Questo giorno sta assolutamente riecheggiando il vostro nome. Ed ecco l'attacco in massa dei tiratori. Attacco in massa dei tiratori romani ragazzi. Non gli rimane più nulla. L'affanteria praticamente l'hanno già persa tutta. E i tiratori. Mi dispiace per loro. Hanno sbagliato palazzo. Seleziono l'affanteria ragazzi. Comprendendo i nostri opliti. Eccoli qua. E li disporrò. Qua ragazzi. Mentre i nostri tiratori per favore tirino a man bassa. Assolutamente un tiro libero devono avere. E per fare ciò devono stare disposti qui. Sarebbe ragazzi quasi da fare indietreggiare. Ricci se sei d'accordo. I nostri uomini. Ma in realtà no. Perché considera che molti dei tiri che arrivano. Vedete ragazzi come vi state riparando sulle mura. Con la lambda alta. Sapete benissimo quello che fate. Addirittura le scale si stanno riparando. Vedete che sono ridotte quasi dei puntaspilli. I morti per i dardi nemici sono davvero pochi. Mentre questa gente qua non so assolutamente dove stia andando. Attenzione fermatevi. Ragazzi dove stanno andando. Ok. Li possiamo mettere anch'essi sulle mura. Belli striati. Belli potenti. Allora ragazzi. Continuiamo con questa battaglia bellissima. Con la difesa di Roma. Quasi quasi mi viene una voglia di fare una cosa ragazzi. Di uscire fuori. Ma ancora non è il momento ragazzi. Aspettiamo che siano praticamente eliminati tutti. Questi poveracci non esistono più. Stanno scappando. Perché i nostri tiratori ragazzi non stanno intervenendo correttamente. Non mi piace questo tiro un po' a scavezza collo. Vediamo un po' ragazzi di sporli meglio. Io Enricchi li farei uscire. Io portare tutti i picchieri fuori. Che sono già pronti davanti alla porta. E fare stima in basso. Ragazzi è il momento di uscire. Di dimostrare al nemico che possono prenderci tutto. Tranne che Sparta. E tranne che Roma. E quindi possiamo uscire. E farla finita. Io direi proprio che Enricchi hai ragione. Faccio un gruppo unico. Li dico di non stare in formazione. Assolutamente ragazzi. Non ce n'è bisogno. Quindi faremo in questo modo. E poi daremo assolutamente l'attacco finale. Ragazzi. Chiudiamo il conti con Roma in questo istante. Possiamo procedere. L'ordine è stato dato. Qui ci sarà assolutamente una folla. A mano armata. Che avanzerà. A picche basse. Verso l'uscita. Le porte si stanno aprendo ragazzi. Le porte di Roma si aprono. E si affacciano contro un nemico praticamente distrutto. Le porte sono aperte. Cercano di avanzare. I nostri spartani. Praticamente si assaltano. E si asserragliano. Su questa grande apertura. Siamo tantissimi ragazzi. Mamma mia. Un esercito immane. Io vorrei però fare una carica degna di un re. Disporrò pur di perdere alcuni uomini in questo modo i nostri. Voglio un'avanzata degna assolutamente di nota. Mentre considerate che i nostri avversari sono sempre continuamente sotto il fuoco nemico. Sia dei tiratori che sia delle truppe e delle nostre torrette. Solo a vederci si ritirano. Ragazzi è davvero un grande giorno per noi. Un giorno che dice sì a Strenus e a tutti voi. Ragazzi allora direi proprio di farla finita qui. Attacchiamo il loro generale con tutta l'armata di picchieri pro nell'anima. Il loro generale eccolo qua quinto trigemino. Fa l'ultima carica di un re. Di un re assolutamente romano. Di un imperatore che non ha più nulla. E infatti anche egli davanti alla nostra grandissima armata si perde. E se ne va. Ragazzi credo proprio che la cosa finisca qua. Vediamo un po' ragazzi. Abbiamo 14 uomini del generale. Che vengono assolutamente ricoperti da un'armata senza confini. Cut and down. Lo chiamano loro stessi ragazzi. Non c'è bisogno che lo dica io. E qui finisce probabilmente la parabola di Roma. Eccoci qua ragazzi. L'ascesa di Roma un popolo antico finisce con questa battaglia. Grande Ricky. Grande bella battaglia ragazzi. Noi possiamo assolutamente terminare questa nostra giornata di vittorie. Abbiamo perso semplicemente ragazzi 41 uomini contro 400 perdite. Nel nemico. Praticamente tutti sono stati annientati. Aspettiamo il caricamento. A questo punto ragazzi potremo uccidere i prigionieri avversari. E vedremo se Roma rimane in vita oppure no. Assolutamente sì ragazzi. Gli sono rimasti pochissimi uomini. Assolutamente pro nell'anima. E possiamo procedere assieme in questo gameplay serrato. Molto serrato ragazzi. Abbiamo già fatto un'ottima difesa. Ma abbiamo bisogno di risollevare la politica. Non smetterò mai di dirlo. Allora ragazzi. Gli RDA ci propongono un'alleanza difensiva. È sempre la solita minestra ragazzi. A questo punto io direi di poterla rifiutare. Anche perché abbiamo un totale di valore. Un totale atteggiamento di 111. E di certo questo non comporterà grossi handicap nei nostri confronti. Quindi ragazzi possiamo assolutamente annullare la cosa. Bene ragazzi. Allora le tradizioni militari. Gli uccisori ciclopi. I cappeggiati da Poli per Conte sono assolutamente livellati nel loro procedere. Abbiamo ancora una volta l'oracolo di Delphi. Che ci darà più 4 all'ordine pubblico per turno. Ragazzi attenzione. È assolutamente essenziale. Ottima nuova missione. Tra virgolette. Un'ottima nuova quest. Che ci è stata proposta. L'oracolo di Delphi quindi ci darà più 10% della ricchezza. E 4 all'ordine pubblico. Molto bene. Costruzione completata alla banchina dall'Alias. Siamo contenti. E qui abbiamo la spia reattiva contro spionaggio. Più 5% della probabilità di scoprire agenti eserciti nascosti. Dunque ragazzi. Riky assolutamente pro nell'anima. Ha detto che tutto ciò è corretto. E possiamo vedere che attenzione. Abbiamo tantissime nuove possibilità da espandere. Al nostro esercito comandato da Poli per Conte. Un esercito di tradizione assolutamente antica. Allora ragazzi. Possiamo dare schermagliatori esperti. Più 3% degli anni causati dalle armi di tutte le unità da tiro. Esperti artiglieri. Più 4% tiri al minuto. Di tutte le unità pesanti ragazzi. Per quanto riguarda appunto le baliste. Esperti di assedi. Diamo un'occhiata ragazzi ancora a tutti gli altri punti. Perché ce ne sono davvero tantissimi. E non vi voglio annoiare. Possiamo vedere che anche abbiamo forti nella difesa. Difese più 1 alle barricate. Più 1 a sette di cave di zolfo. Tante cose che non abbiamo mai visto insieme ragazzi. Forza in restabile. Do un'occhiata con Ricci e ci ritroviamo. Ragazzi spero siete d'accordo. Abbiamo deciso Ricci di assegnare a uno degli eserciti più potenti. Influenti nella nostra popolazione. Spartana pro nell'anima. Forti nella difesa. Ci daranno la possibilità di usare ragazzi. Prima delle battaglie. Le barricate. Le sette di cave di zolfo. Che poi vedremo cosa sono. Palle di fuoco. E sette di triboli. Ragazzi sono cose che ho già utilizzato in altre campagne. E sono davvero belle. Bene così ragazzi. Possiamo procedere. Assolutamente pro nell'anima. Direi Ricci che tutto quello che c'era da fare. L'abbiamo fatto. Potremmo metterci a sbarramento dell'entrata di Roma. Per non combattere più da dentro la città ragazzi. Ma potremmo costruire un fortino da questa posizione Ricci. Se sei d'accordo. Come dire. Romani andate solo avanti. Non potete tornare indietro. Creiamo ragazzi un fortino. Prima di Roma. Qui sulla via per Roma. In modo tale da difendere la città. E non rovinarla utile orimente. E direi che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Anzi no. Ragazzi direi di costruire tutto il costruibile. Anche perché abbiamo capito che ormai non dipende dalle strutture e l'ordine pubblico ragazzi. Per quanto sia importante. Chiaramente si dipende dalle strutture. Ma non totalmente. Il nostro handicap non sono quelle ragazzi. Vanno bene quelle. E infatti posso continuare a costruire dei gran coma ellenici. Per poter espandere le nostre città poi in futuro. Ma il problema ragazzi è la politica. Rimane quella. Continuiamo a vedere che infatti abbiamo assicurato semplicemente una promozione in questo turno. Mentre non possiamo fare altro. Nei confronti degli avversari ci costerebbe anche troppo. Però. Comunque meno uno Geronti. Ricci per 952. Non sarebbe male nei confronti di Omero. Anche potremmo anche torronparlo eventualmente. No. Perché ci darebbe meno uno Geronti in quel caso. E verrebbe dalla nostra parte. Ma non ha senso. Per me ha molto più senso fare meno uno Geronti e pagare Ricci. Perché così rimane di là ma perde un Geronte. Facciamo questo ragazzi. Fidatevi. Vediamo. Spargi la voce. Eccolo qua Ricci. Attenzione. Perde uno dei Geronti. E vediamo subito al passaggio turno cosa succederà. Passiamo il turno assieme ragazzi. Ragazzi. Roma non si arrende. Scavalca la nostra fortificazione. E riattacca proprio direttamente Roma. Non mollano. È il momento ragazzi di spazzarli via definitivamente. Con una veloce battaglia assieme. E poi. Proseguiremo. Bene ragazzi. La seconda difesa di Roma si attua in questo istante. Abbiamo Poli per Conte che purtroppo ragazzi dal fortino sta arrivando da questa piccola breccia nelle rocce dietro Roma. Stanno proprio entrando in questo momento ragazzi il nostro grande esercito. Quello vero. Mentre probabilmente la battaglia sarà vinta dalla piccola guarnigione in questo caso. E si trova qui sempre uomini fidati pronti ad accogliere il nemico con le picche. Una giornata di pioggia ragazzi. Una giornata che in cui anche il cielo come dico sempre piange. Piange contro i nostri nemici ragazzi. Dovrebbero bastare gli uomini di guarnigione per finire i poveri romani. A questo punto poveri è un appellativo assolutamente necessario. Togliamo l'ordine a tutti i tiratori di scappare. Eccolo qua ragazzi. Possiamo goderci assieme quest'ultima battaglia. Di questo gameplay ragazzi. Che spero vi sia piaciuto. Queste lame brillano. Ma fidatevi che l'unico sangue che vedranno sarà loro. Assolutamente sì ragazzi. Qui opporremo nuovamente la nostra resistenza. Vediamo ragazzi avanzare quindi queste truppe. Vediamo anche che cosa è rimasto dell'esercito del generale. Tra questi ragazzi. Eccolo qua. Quinto trigemino. Eccolo qui ragazzi. Che dice. Impartisce gli ultimi ordini. Ma qui ragazzi. Neanche essendo un Napoleone. Una stratega di assolutamente capacità. Riconosciuta a livello mondiale. Potrebbe appunto salvare le sorti di questo conflitto. E vediamoci allora. Godiamoci lo spettacolo dei nostri tiratori. Che già incominciano a scagliare. Vediamo qualcosa di cinematografica ragazzi. Quella che vi piace tanto. Quella che ci piace tanto. Possiamo goderci appunto questo spettacolo. Inaudito. Vediamo un po'. Perfetto. Possiamo vedere ragazzi che praticamente la torre 1. Non è riuscita neanche ad avanzare. Tutti scagliano a mano armata. Dalle feritoie. E infatti qua. Questo è un pochino il riassunto di quello che stiamo vedendo ragazzi. Uomini che si ritirano. E ciò nonostante probabilmente non riusciranno a scappare. Frecce che arrivano come cecchini nelle loro schiene. Questo uomo sta bruciando Ricky. Con frecce nel veretano. Ma non cade. Non cade. Non cade. Non cede. Ma Ricky non credere che possa uscire dai nostri territori. Salvando la vita. O appunto evitando di diventare il nostro schiavo. Allora ragazzi siamo qui. Arrivate le leve. Sono rimaste praticamente solo queste. E il generale nemico. Che ancora una volta aspetta lontano. Guarda i suoi uomini morire. È un po' stata la strategia ragazzi di Roma. Quella di non. Assolutamente di non aver paura a sacrificare i propri uomini. E di questo siamo sicuri che. I nostri figli. Se lo ricorderanno ragazzi. Assolutamente i nostri. La nostra progenia spartana. Si ricorderà di ciò. Allora vediamo subito che gli attaccanti. Stanno salendo le scale. Pioli. Mamma mia. Muoiono mentre salgono. Muoiono mentre salgono. Non riusciranno ad arrivare ragazzi. Sono già praticamente molto turbati. Lo possiamo vedere da questo segnalibro giallo. Ed ecco i nostri spartani. Tutti voi. Che per la seconda volta in questo gameplay. Devono mandarli a casa. Eccoci qua ragazzi. Allora godiamoci un po' di spettacolo. Un po' di combattimento vero. Un combattimento assolutamente pro nell'anima. Eccoci qua. Schiaffi in faccia. Sportellate. E lanciano il cuore. Quello che sapete fare meglio ragazzi. Anche in questo caso tutti si stanno ritirando. Non c'è più nessuno. Rimane semplicemente il generale. Cosa sta facendo questo generale? Che pazzia gli ha preso una carica a cavallo contro Roma stessa. Io direi il nostro generale contro loro. A questo punto Ricci so che vorresti fare così ma non ci sarà bisogno. Nel momento in cui il generale loro attaccherà. Verrà freddato dai nostri tiratori. Che fanno una pioggia di dardi. Ricci attenzione ragazzi. Io voglio vedere il loro generale. Che non è questo ma questo. Pioggia di dardi per lui. Non voglio Ricci che torni. E infatti davanti alla città bianca. Muore. E lascia assolutamente il trono spartano di Roma. A noi. Bella avventura ragazzi. Abbiamo difeso Roma. Assolutamente pro nell'anima. Grazie Ricci come sempre. Cinque a Ricci. Terminiamo la battaglia. Ecco qua ragazzi. Eccolo Xiphos. Pienamente nel ventre del nostro nemico. E qui Roma ha perso praticamente la sua unica truppa di terra. Ragazzi andrà praticamente a distruggersi nei tempi a venire. Contro altre civiltà. Operirà appunto nell'oblio. Allora ragazzi vediamo subito che uccidi i prigionieri. Assolutamente sì. Possiamo farlo perché non abbiamo l'ordine pubblico per mantenere altro. Vediamo che Cartagine si sta muovendo. Con fare assolutamente ambiguo. Ma vi ricordo che ci vede in modo neutrale. Non dovrebbe attaccarci in modo appunto inaspettato. Aspettiamo e godiamoci assieme a questa fine turno. Vediamo un po' ragazzi. Gli RDA qualche movimento. No non ci fanno vedere assolutamente niente. Meglio così. Gli insubri che si muovono sempre. Anch'essi sospettosi. Hanno Genua. L'odierna Genova logicamente. E qua possiamo notare che appunto ragazzi. Abbiamo ricercato anche la tecnologia. Ricercata tempo addietro in qualche gameplay fa. Speronamento migliorato. Bene ragazzi. Poli per Conte. Quattro di grado generale. Aumenta ancora una volta la sua influenza. Speriamo di andare ad aprire il pannello politica ragazzi. E vedere un miglioramento netto. Abbiamo grado tre alla Spianiche. Misteri e Leusini. Oltre all'altro fattore positivo dell'oracolo di Delfi. Abbiamo anche Misteri e Leusini. Che ci darà quattro l'influenza culturale. Quattro l'ordine pubblico. Ragazzi un po' di fortuna finalmente. Mamma mia. Ma bene la sfiga però. Troppa è troppa. Grande disonore. Abbandonare lo scudo e fuggire. Costruzione completata. Il costruttore di scudi. Fazione distrutta. Tiri se peggio per loro. Gli autanti aumentano. Con la mia pelle. A mezzo di. Sarebbe ragazzi. Lo Skiddeion. Ok. Meno 3% delle perdite dovute all'auguramento. Sotto assedio. Beh ragazzi. Non sarebbe male. Più di sì. Ok. Attenzione. Nel. Nei confronti di Epicuro. Epicuro che si trova però. Nel. In Corsica. Direi di lasciare più di sì per cento la probabilità di successo critico. Ragazzi. Inviamo la lista a questo nuovo aiutante. Allora raga. Possiamo vedere che Roma. Ha semplicemente questa nave. Che praticamente non conterrà più nessuno. Possiamo vedere l'indice di riempimento. Da questa barra gialla. E possiamo vedere che stiamo salendo di 5 per. In tutte le regioni praticamente. E 2 anche in quelle più assedate. Assediate e martoriate. Attenzione ragazzi. Anche se. Anche se ragazzi. Mi sa che il prossimo turno qua. Non scampiamo da una ribellione. Quindi attenzione. Vediamo un pochino. L'ordine pubblico è stabile. L'ordine pubblico è stabile. Perché ci siamo fermati. A un orlo dall'altra collo Ricky. Forse la fortuna ci bacerà. Vediamo un po' ragazzi. Se abbiamo ottenuto qualche altro bonus. Assolutamente mai. Siamo sempre al 17%. 5 geronti. E tanta politica. Che va in malora. Ma ragazzi. Ci ripiglieremo. Perché siamo spartani. Io vi ringrazio ancora. Per tutti i commenti. Per il supporto a questa serie. Che tanto vi sta piacendo. E tanto vi sta piacendo. Saluto il grande Ricky. Con un altro 5. E anche con la voce. Ciao ragazzi. Grazie ancora dell'aiuto Ricky. Come sempre ragazzi. Spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace. Un commento. Pagina Facebook in descrizione. Io vi saluto. Se volete. Condividete. Ragazzi. Basta con lo slang. Qui da Stenus è tutto. Ave. Ciao. In questa facciata puoi trovare. Gli ultimi due video che ho fatto. E basterà cliccare su di essi. Per raggiungerli. Se il video che hai appena visto. Ti è piaciuto. Lascia un mi piace. Lascia un commento. E se hai voglia. Iscriviti al canale. Per rimanere sempre aggiornato. Alla prossima.